per l'acquisto dell'ultimo minuto e quando dobbiamo parcheggiare per partecipare all'evento dell'anno quando ci regaliamo un momento di shopping nel nostro negozio materico e ci fermiamo a pranzo in quel ristorante in centro per incontrare un amico che non vediamo da tanto e poi anche quando decidiamo di tentare la fortuna incontriamo custom ogni volta che ci imbarchiamo per un viaggio e dobbiamo volare dall'altra parte del mondo per tornare finalmente a casa ecco quanto spesso incontriamo custom durante una giornata un unico interlocutore